Torna la vittoria, la Tritium con il Serenio 2-0, allora Marco Sgro, sicuramente oggi non una bella partita dovuta a tanti motivi, il campo, gli avversari ostici, com'è andata? Hai detto bene, avevo già avvertito i ragazzi che sarebbe stata una partita maschia con tanti falli, tante espulsioni e così è stata perché è proprio tipo di squadra che ti indispone, tutti nervosi, urlano, è chiaro che oggi uscita non è proprio stata una partita di calcio però alla fine 2-0 giusto e meritato e ci portiamo a casa i tre punti. Nel secondo tempo siete arrivati anche con un uomo in più però non sempre, anzi quasi raramente siete riusciti a ripartire per cercare di chiudere la prima e insomma anche un paio di volte qualche mischia avete anche rischiato. Sì perché noi sapevamo che loro con questi lanci lunghi su Borghese che poi è andato a fare il centroavanti e potevano crearci dei problemi però alla fine non hanno mai tirato un porta, è stato, anzi devo fare i complimenti a Rota mio 2001 portierino che all'inizio ci ha messo una pezza e questa vittoria è merito suo perché se andavamo sotto sarebbe stata tutta un'altra partita. Complimenti perché ha fatto una grande parata. Una vittoria insomma ottenuta più che con la tecnica, con la calma, con la grinta anche che avete opposto gli avversari. A volte si deve vincere anche giocando male, oggi tutte e due le squadre hanno giocato male però abbiamo vinto noi perché avevamo più voglia, avevamo voglia di fare tre punti e ci siamo riusciti.